A Rezzo si veste di bianco per dare il via alla stagione dei saldi estivi, tante le iniziative ed una formula assolutamente vincente, quella di unirle ai tanti luoghi d'arte che sono presenti nella nostra città. È un desiderio di fare festa insieme, un desiderio di far uscire le famiglie, giovani, meno giovani, dalle loro case, apprezzare la loro città e creare un po' più di buon umore. Il clima è abbastanza gelido perché la situazione non è affatto facile ma forse stando insieme e facendo festa possiamo migliorare l'umore e quindi anche facilitare il percorso degli acquisti. È un momento di incontro, un momento per fare festa ma è un momento soprattutto di attenzione nei confronti di una parte dell'economia del nostro territorio che è quella del dettaglio, del commercio, della ristorazione che purtroppo sta continuando a soffrire. Per cui tutte le iniziative volte a migliorare la visibilità delle città, dei territori e della vendita del dettaglio credo che debbano essere assolutamente valorizzate e sostenute. In occasione appunto di questa serata speciale abbiamo musei aperti in orario notturno, quindi la Basilica di San Francesco con la Cappella Bacci e gli affreschi di Piero, abbiamo il Museo archeologico nazionale di Arezzo con laboratori per le famiglie su prenotazione, il Casa Vasari con l'occasione di visitare in notturna la nuova mostra appunto aperta di recente e poi abbiamo naturalmente anche il Museo d'Arte Medievale e Moderna, anche qui apertura con visite guidate alle collezioni. Che emozioni crea questa cena in bianco in una piazza così bella come Piazza Grande? Per noi è grande soddisfazione, l'anno scorso abbiamo avuto una grande affluenza e abbiamo deciso di riproporla quest'anno con questa data del 5 luglio, veramente la piazza vive e questo colore così elegante rende tutto più magico. Allora chi intervisterà in questa Notte Sotto le Stelle? Allora non sarò direttamente io quest'anno ma come festival, come Mengo si collabora con Notte Sotto le Stelle che è un appuntamento bellissimo e ci sarà Francesco Motta, dopo l'anno scorso la presenza di Morgan con Parole e Musica, quest'anno invece Francesco Motta, anche in questo caso un'intervista e poi spazio un po' alla musica dove racconterà un po' l'ultimo disco, il suo tour, tutte le sue prossime attività e quello che sta un po' facendo negli ultimi anni.